Allora oggi vi parlo di questo mondo, è un mondo che adesso vi faccio una cosa, c'è sempre Edo, aspetta che tolgo Edo, perché altrimenti rimane lì giustamente povero che si vede e dici ma come è rimasta l'immagine, aspetta che la vado a liberare, allora al e non c'è più, non c'è più, ci siamo, ci siamo, no perché non era giusto, eccomi, oh almeno adesso, allora quando ci sono gli influencer, io non so più come dirvelo però io ho visto che è necessario ripeterlo e adesso vi faccio degli esempi, io continuo, lo sanno tutti, lo sanno tutti, sono stato il primo nel 2008 mi pare o 2012, scusate 4 anni di differenza per me, su 30 anni sono un casino da ricordare, 2008-2012 esistono i fake, l'ho dimostrato, l'ho fatto vedere, da allora viene ripetuto in ogni modo, non solo da me, da tantissimi, eppure quando si cita quell'influencer o quell'altro influencer si dice senza metterci un punto interrogativo dopo, mai, a 20 milioni di follower, punto, cioè come se fosse ovvio, normale e certo, non lo è, ragazzi non lo è, poi vi dite sì ho capito, va bene falsificarne mille, ma 20 milioni, ma un milione, allora vi facete, è facile, allora qui su questo sito Insta followers pensate che fate finta di voler fare l'influencer da zero, ok? Voi sapete che un influencer per far vedere la tazza viene pagato comunque anche il più sfortunato, insomma qualche migliaio gli arriva, dai, inizia con qualche centinaio, poi se incomincia ad avere 100 mila follower, un mille te lo danno, ok? 891 dollari per diventare uno da 100 mila, ok? Fine, cioè dobbiamo rendercene conto di questa roba qua, è una roba che basta, io, voi, noi non possiamo fermarlo, non possiamo fermare questo mercato, è evidente, ma almeno fermiamo la comunicazione sbagliata, basta scrivere a un milione di follower, perché è probabile di no, forse, pare, abbia un milione di follower, facciamo almeno questo, ok? Vi faccio vedere delle altre, voi dite, vabbè ho capito, però puoi anche avere il follower, se poi non hai i like, 24 euro dollari, ok? Per 2.500 like, io do 24 euro a post e continuo ad avere 2.500 like a post, ma poi siccome non bastano i like, no? Bisogna anche averli su tutti i post e magari anche nei commenti, non c'è problema, con altri 35 dollari, compro 1000 like automatizzati, andate su Insta follower, lo vedete con i vostri occhi, e poi uno dice, sì vabbè ho capito, però, però insomma, le visualizzazioni dei video, quelle milica le falsifichi, 8 dollari, 5.000 visualizzazioni, ok? E poi dici, sì vabbè ma i commenti, non c'è problema, do una lista di commenti, di solito sono faccine, sono cosine, sono yeah, sono eccetera, 50 commenti, 29 dollari. E avanti così, views al profilo, quelli che salvano, quelli che fanno impressions, quelli che guardano le storie, sono tutti bot, che funzionano così, e c'è un mercato enorme di influencer, non tutti ovviamente, ma enorme, che comprano così e rivendono, quindi io compro per creare un mondo falso e poi lo rivendo, e questo purtroppo è molto, molto diffuso, ok amici? Va bene, allora, i follower hanno un nome e cognome, adesso ve lo dico, i follower hanno un nome e cognome, sì, dipende, e quindi perché ovviamente è un computer, se voi fate, voi pensateci, voi aprite il computer, aprite una nuova sessione di un browser e create un nuovo account su Instagram, che si chiama Gino Ginozzi, ok? Da quel momento voi avete creato un account falso, questo Gino Ginozzi può andare a fare like dappertutto, può andare a fare commenti, se invece di averlo fatto voi, con il vostro computerino, fate, create un sistema in grado di replicare quell'azione migliaia di volte, è in grado di creare migliaia di account falsi, che fanno queste azioni, le big platform lo sanno questo? sì, e perché non fanno nulla? Perché se dovessero fino in fondo eliminare davvero tutti i fake, non ci sarebbe più il business, non ci sarebbe più il mercato, ok?